Completa gli incontri in qualsiasi ordine, livello detentivo dal ministero, la commissione per il censimento dei nati babbani, sempre giocando dei nati babbani, innocenti, al ministero, liberali. La cramantula, la foresta c'è a numerosi pericoli, una cramantula catturata dai nati babbani, devi aiutarli. La cava, germidori mangiamorte e cercano ovunque Harry Potter, l'indesivale numero uno, sopravvivi all'imboscata. Iniziamo da questo. Qua che cos'è che dovrei fare più? Scusate. Devo liberarli, ok. Giù di là, devo andare. Ho sentito che ci sono stati dei problemi in uno e gli altri. Con noi dobbiamo passare al pettine tutto il ministro. Scusate. Grazie, grazie infinite. Espetto patronum! Eh, ho sbagliato il tasto, ho sbagliato il tasto. Eh, vabbò. Missione fallita perché ho sbagliato il tasto, va bene. Vabbò, andiamo aggressivi, ho capito. Non facciamo i tattici, tanto non ci sta. Non siamo tattici noi. Dove vai? Vieni qua. Forza. Vieni, vieni, vieni. Vieni ciccio, vieni. Vieni. Perché non vieni? Vieni. Benissimo. Adesso. Ok. Ottimo. Ma muori male. Aia. Eh, vabbò. Allora dobbiamo fare la distalte, quindi. E facciamo la distalte, che vi devo dire. Occhi aperti. Non è solo che qualcuno dei prigionieri provi a scappare. La vigilanza è tutto. Ci abbiamo gli altri. Hai nessun posto, Dora. Eh, vabbò. Questa parte è veramente incasinata, ragazzi. Uno però l'abbiamo già tecnicamente salvato, giusto? Ma da sempre di uno. Ora che ci occupassimo del problema dei nati bambani. Ora potrei raccontarti in augurio. Grazie infinite. Via, 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 via. Via. Ok. Dimmi dove devo andare. Oh. Giù di qua. Giù di qua. Ok. Giù di qua. Non potevi farmi fare l'altra strada, no, eh? Va bene. Qua addirittura sono quattro. Che bello. Ho capito che questa qua è tutta parte di stealth. Potevo anche lasciar stare. Ecco, vai di lì, bravo. Non passarli qui. No. No. No, vi... Ma porco, due. Devo imparare a usarli Più facilmente Sti cavolo di Sbagliato Oh Dai Ok No in realtà è da voi che ci sono stati dei problemi ma va bene Ok laggiù mi vedono Sì provassi a fare un lancio di quali belli così Ok Il prossimo Prima di un po' usciremo dal combat secondo voi Dove sta colpendo Aia E dai E dai Aia Ok Dove devo andare adesso Sempre giù di là Ma sono serio Dove Ma dove cazzo Ma porco due Vieni qua Maledetto Con calma Sono sti cazzo di Ok giù di qua devo andare Dove Ma ci sono appena sta Via 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 Porco due Via Scappa 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 Arri Madosca Sto finendo anche le pozioni esplosive Ok giù di là Ok Dietro Via 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 Ok Il prossimo è lì L'altro direi che è qua Probabilmente E immaginavo Ne ho ancora quattro Dai Ok l'ultimo Ok Allora Missione completata Mamma mia Ragazzi Mamma mia Che casino No vabbè Qua possiamo penso Combattere normalmente La force è per Eh non ho letto Porco Giuda perché è stato Troppo veloce Quanti sono? Fammi indovinare Sono Sì Continuano a poppare Ok Via 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 Con Fringo, secondo me, è qua No Vi vediamo un attimo se... Minchia Stupificio, ma ok Giù di là, perfetto Sono andato proprio in un'unica parte dove dovevo andare Che bello Fai finta di niente No, adesso non puoi fare finta di niente Ok, devo correre Via, 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 via Spero giù di qua, spero Uno di tre Segui di qua, perfetto No Ci vedo un piffero No, ho sbagliato il tasto Ok Giù di qua Ha fatti mangiare dalle acramantule Niente Niente Di qua c'è qualcosa Non penso che in questi livelli ci sia qualcosa anche da trovare Però proviamo a vedere E con un altro E con un altro Cazzo Questa parte? No Non è da questa parte Da che parte è che dobbiamo andare? Di là Di qua Sì Giù di qua Spero No, non è giù di qua È giù di... dove? Dove? Giù di là Visto l'ultima Via, 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 via Aspetta Aspetta Bella Completata Allora Grimidale mangia molto e cercano ovunque Harry Potter Ne Sapravvivi all'imboscata Ma se io facessi così per dire Eh no Ci ho provato Dove? 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 Uuuuuh Calmi, calmi Dove? Eccolo qua Questa x, x, x Eh Dobbiamo parare un poco Devo un po' bloccare gli attacchi Se non mi muovo Vai Non so Dove? Ma dove? Dietro di me? Mettiamoci qua Ciò che non capisco io è Cioè cosa dovrei fare io qua? Devo muovermi? Lol Vai Grandissimo Dove? Grandissimo Eh Questi qua fanno male Questi fanno male Aspetta Ma perché sta cosa? Via 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 Aspetta che lo vedo Una parte Uno là sopra Un po' incasinato da prendere Però ci possiamo provare Eccolo 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 un altro Mettetemi in fila Cc Sì lo vedo Con la sopra Vorrei sapere quanto dovrebbe durare Questo combattimento Così Il problema è che non riesco a capire quanto duri Eccolo Dove? Eccolo La vecchia Oh Eccoli Eh va po' Certo Quando sono in tanti C'ho buone proprio Aia Ok Uno battuto Assolutamente Atta Nel frattempo Mi pompa Bestia Dove è l'altro? Impero? Addirittura Mi usi Impero? Su di me Maledetta Eh niente Quando mettiamo quei colpi lì Ci ha buone proprio Via 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 Dove cazzo? Perché mi va in prima persona ogni tanto Così a puffo Aia Ok Bisogna trovarli però Una E la sopra Eh no C'è l'albero C'è l'albero Colpiscila Bravissimo Dai su Missione completato Mamma mia Ce l'abbiamo fatta ragazzi Mamma mia Pensavo La spada di Godric E se Silente L'ha nascosta Godric solo È un posto che conosciamo E lo conosceva anche Silente Ma ci penserebbe anche tu sai chi Sarebbe rischioso Beh sì Però Vediamo Non mi fate usare il martello dell'invisibilità Vi prego Dove è nato Godric Grifondato Ovvio no Dove altro poteva nasconderla Se no E Silente E Battista Battista L'ho vissuto là E i miei genitori Harry Pensi che se è possibile Che Voldemort Venga ad occhio La tomba dei tuoi Dovremmo usare la pozione Quale succo Attenzione Bellissima sta cosa qua Trovo la tomba I genitori di Harry Come? Ha detto Dobbiamo usare la pozione Per il succo Facciamo delle ricerche Se Ron tornerà Dovremmo essere pronti A metterci sulle tracce Del prossimo Orkans Eh vabbè Ah eccoli qua Dai 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 Ok Non ci piace steltare A noi Ma tutti tutti Che livello siamo 17 Cos'è che c'è scritto? Tieni Harry nascosta In disegno numero 1 Inventario pieno Mangia morte ovunque Tanto per cambiare Dimmi dove dobbiamo andare Intanto gioco Giù di là sicuramente Però volevo vedere anche giù di qua Ok Questa? Ah è Hermione Ok Giù di là Dobbiamo andare Calmi eh Calmi che state apparendo così a puffo In continuazione Mi state facendo venire Il mal di mare Per scansarvi Ecco pure Siete un po' troppi siete Però ciccettini Eh Vabbò Dai Hermione riesce a non farti ammazzare? Seconda mano Mille Mille Aia Aia Porco 2 Aia Vieni Vieni ciccio Vieni su Venite Dai Mille Venite Cacchius Uno l'ha battuto Vai No 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 Ok Ce l'ho fatta Ok Minchiazza Abbiamo attuto 4 dissenatori Più un garmidore Poi Madosca ragazzi Hermione Mi ha servito un piffero Tanto per cambiare Ma perché allora Ci avevi fatto venire di qua Scusa gioco Cioè il gioco Mi diceva di venire giù di qua Non ci credo Oh 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 Vabbò Andiamo giù di qua Come vuole il gioco Io vado anche qua Perché c'è un altro di queste qua Voglio vedere se per casa C'è qualcosa di interessante No ciccio Non mi avete visto Non mi avete visto Gas strozzante Vediamo un po' Ne abbiamo già al massimo Non lo tocco neanche Ok Qua c'è qualcosa Qua c'è qualcosa No Ma come Ma come cazzo Hai fatto a vedermi Ok Ok ottimo Gas strozzante Questa cimitero Trova la tomba Del genitore di Harry Perché mi dice di andarvi Fuori Mi dice di andar fuori Mi dice Non mi dice di stare qua Esamina Grazie per il tempo Passato insieme Questa Vive nei nostri ricordi Riposa in pace Approvato fino alla fine Beh Una roccia nella tempesta Una luce nelle tenebre Ha dato speranza A noi tutti Vediamo se c'è qualcosa Di qua Oh Qua c'è qualcosa Cos'è questo? Gastrozzante Ma il problema È che non riesco a capire Perché Mi dice di andare Dall'altra Via Mi dice di andare Questo qua c'è scritto L'ultimo nemico Che sarà sconfitto È la morte È il simbolo degli Horcrux Sono certa di aver già visto Questo marchio Sono Filius Lovegood Lo indossava al matrimonio Qualcuno ci osserva Dal cancello Dobbiamo seguirla Dentro di me So che dobbiamo seguirla È seguiamo Non penso che sia una buona idea Ok Abbiamo gli attacchi più potenti Adesso Perfetto Oh Perché non mi fa Steltare? Cioè non posso neanche steltare Ragazzi Esami la cosa? La tomba? Amava la vita E la vita amava lei Io volevo vedere Però se c'era qualcos'altro Qua Non penso Però Un secondo solo Qua dalla Qua dietro Eh esatto Va bene Ok Immaginavo ci fosse qualcosa Allora Niente Qua mi sa che non c'è niente Ah Eccolo qua Silenti il coraggio della verità Nella terza parte dell'intervista Rita Skitter Spiega come Grazie al suo profondo legame con Harry Potter È riuscita ad avere Un quadro chiave Del rapporto Fra ragazzo e Silenti Ok Dovremmo averli letti tutti Tecnicamente Vediamo solo il cavillo Ma non penso che Cioè penso li avrebbero letti tutti Finora Sì 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 comunque sono tutti articoli Praticamente di giornale Ragazzi Non è niente di chissà che cosa Cioè alla fine Se avete visto il Il film O avete letto il libro Comunque su tutte cose Che c'erano già scritte Quindi Dobbiamo andare Giù di qua Non capisco il perché Non posso correre Il gioco non vuole Che corriamo ragazzi Ah è questa la porta Scusate Chi lo sa Sei Battilda Hermione Lei è Battilda Conosceva Silente Potrebbe avere la spada C'è qualcosa di strano In lei Sì Non sta parlando Vuole che salga di sopra Harry Va bene Tu Rimani qui Ed Harry ha ventato Sale su di sopra E ha ceccato troppo Dal voler sapere Harry ragazzi È veramente troppo accecato Attenzione E lei invece È molto similante Ecco Ecco Boss fight Scontati con la gira vita Tutti i suoi attacchi Per colpirti Mazzò male Aia male Ma cazzo Ma cazzo Non faccio ripararmi Non mi funziona neanche Protego Oh ce l'ho fatta forse No Forse Non si pensi di sì Ecco Maledetto Mi sta parte di voler Ma comunque Veramente strunza Ok Ok Ancora È in più fasi Questo qua Bella Ok Ok Cacchius No No Aspetta Arco Giuda No Eh Missione fallita Eh Certo Oh Ok Ok Hermione, occio Eh, volevo farlo anch'io Protego Ma non me lo facevo utilizzare E vai Grande Cacchiarola che boss fight è questa Eh, più o meno Eh già Non giri Adesso tu ti devi riposare Pensi che lui riposi? Tu sai chi è in vantaggio su ogni nostra mossa Però se ne è andato E non abbiamo indizi Il che vuol dire che dobbiamo muoverci Lo so, lo so, ma... Harry, ho letto un centinaio di volte il libro che mi ha lasciato silente L'ho controllato minuziosamente So che deve esserci un indizio, ma... Guarderò ancora Tu controlla che qui siamo al sicuro Io guarderò ancora Hermione Hermione Amo a tutti i nostri amici Grazie.